...perchè stata una prima di essere nata in Italia nel 1965, quindi a Prentissi ce la giugnerà proprio un po' di un giovane, è stato il rispondatore della delegazione di Prentissi, sono partiti con Antonella Ricci, con grande raggiuntieri, con un co-regato di isolatori dell'epoca, hanno fondato questa piccola delegazione che all'epoca contava davvero un po' di soci, poi un po' l'interesse per il mondo del Prentissino, l'interesse per la qualità di vivi, la crescita di vivi di Puglia, chiaramente ha portato a un turulare e a un incremento notevole interesse verso questo mondo e conseguentemente anche verso i corsi di sommelier del posto dell'agricento e soprattutto la tecnica di illustrazione, una volta che terminiamo il corso ci hanno dovuto acquistare una certa attestichezza, una certa tecnica per il programma della teologia e si deve gustare un vino e quindi c'è un testo specifico di riferimento che riguarda proprio questo, riguardante quindi le lezioni 5, 6 e 7 del termine della registrazione e le lezioni sono assettate, perché sono delle lezioni importanti, gli altri che non sentono di missare tutti conoscendo, le caratteristiche sensuali che analizziamo, ma tutti gli altri che vengono utilizzate. come stavolta circa due o due o due o quattro, costa di una parte teorica, nuova o nuova e quattro sul tema della lezione, come vedete, vedete lo ritrovato sul libro, e un'oretta invece di tecnica della illustrazione. Quindi, man mano, inizieremo piano piano, ad approcciarci alla illustrazione in maniera davvero didattica, quasi elementare per poi elaborare e migliorare sempre di più, soprattutto alle lezioni 5, 6 e 7, ma nel vivo si conosce tecnicamente in maniera molto capitale e precisa come si denuncia per un vino. Quindi, se... Perchè le luci saranno anche da un po' di stagione, perché le luci saranno anche da un po' di stagione, perché le luci saranno anche da un po' di stagione, perché le luci saranno anche da un po' di stagione, perché le luci saranno anche da un po' di stagione, perché le luci saranno anche da un po' di stagione, perché le luci saranno anche da un po' di stagione,